Un posto al sole, ipotesi nuove trame, Guido tradisce Mariella, si farà girare da Claudia. Claudia Costa sarà uno dei personaggi principali di Un posto al sole di questa stagione. Come testimoniano le indiscrezioni chiave, le donne saranno sempre più presenti nelle prossime puntate. Le anteprime per gli episodi dal 3 al 7 giugno mostrano che l'attrice cerca effettivamente di far simpatizzare Silvia ospitandola a casa sua. Tutti i suoi amici, soprattutto Guido, sembrano in lizza per il suo sostegno, ma Mariella non potrà fidarsi delle buone intenzioni di Claudia e forse avrà ragione a non fidarsi di lei. Non è infatti da escludere la possibilità che Guido li tradisca. Claudia può ingannare Guido. Il rapporto tra Mariella, Antonella Aprisco, e Guido, Germano Belavia, è messo a dura prova dalla presenza di Claudia Costa, già da desideri. In precedenza, l'ufficiale di polizia considerava sempre il suo amico come una specie di sogno irraggiungibile. Ma ora è convinto di avere una possibilità, indipendentemente dal fatto che sia sposato. Nella puntata attualmente in onda, il poliziotto e l'attrice si fissano sempre più intensamente, suscitando la gelosia di Mariella. Guido cerca di rassicurarla, ma deve dire che tra lui e Claudia c'è sicuramente qualcosa di più dell'amicizia. I due, infatti, erano molto vicini al baciarsi. I più maligni, però, credono che Guido sia solo una pedina nelle mani di Claudia, che lei non sia interessata all'uomo e abbia trovato in lui una persona che può aiutarla. Tuttavia, ciò non esclude la possibilità che l'ufficiale di polizia stia effettivamente tradendo la moglie. Frequenti conversazioni telefoniche con il suo agente hanno rivelato che, sebbene sia orgogliosa di essere un'attrice affermata, In realtà ha una carriera disastrosa e molti problemi finanziari. Per favore, fai attenzione. Anteprima un posto al sole dal 3 al 7 giugno, Claudia si trasferisce a Palazzo Palladini nella prossima puntata di Upass. Claudia si trasferisce a Palazzo Palladini, più precisamente a casa di Silvia, Luisa Amatucci. A quanto pare, la donna è riuscita a spostarla dopo aver raccontato i suoi sentimenti al proprietario del Vulcano, quindi la sua amica ha deciso di accettarla in casa. Non c'è niente di sbagliato nel mettere i tuoi amici in un angolo, ma sembra che Claudia abbia un piano ben preciso per approfittarsi delle persone. Nello specifico ha bisogno di restare a Napoli, e la sua ospitalità le risulterà molto pratica. Devo dire che anche Silvia nasconde il suo debito verso Vulcano. Il piano di Claudia Claudia non è mai stata un personaggio negativo. Tuttavia, in passato ha mentito per vantarsi con i suoi amici e spesso ha accompagnato uomini facoltosi che avrebbero potuto aiutarla. Ad essere onesti, era più una vittima degli uomini che una manipolatrice in generale. Tuttavia, in realtà è riuscito a ingannare Guido. La trama sembra al momento comica, ma non esclude la possibilità che Del V tradisca effettivamente Mariella. Questa donna, infatti, sembra essere l'unica a non fidarsi di Costa. Inoltre, fai attenzione, poiché la poliziotta è già sospettosa nei confronti di molti dei due e con l'aiuto di vice potrebbe scoprirli o rendersi ridicola e diventare amica di Claudia.